Manca ormai pochissimo all'attesissimo derby tra Alma Trieste e GSA Apo Udine con Mario Ghiacci per parlare della sfida di stasera che è un triplo appuntamento qui all'Almarena, tutta esaurita, in piazza della borsa il Megaschermo e su Tele4 la diretta, qualcosa di eccezionale Di più, di più Se poco tempo fa mi potevate chiedere questa cosa io credo che ti dicevo che eri un matto e quindi pensare che oggi abbiamo sold out al Palazzo dello Sport di Trieste che credo sia l'unica volta da quando è nato abbiamo risvegliato veramente i nostri tifosi che già erano tanti ma adesso sono veramente tantissimi e abbiamo pensato di fare questo servizio perché credo che sia una cosa molto bella oltretutto la collaborazione con voi è nata in tempi non sospetti e quindi questo per me è una grande soddisfazione non c'è dubbio con Tele4 lo schermo in piazza credo che quello schermo serva per far vedere alla gente che magari l'abbiamo solo sfiorata vogliamo farci vedere anche lì perché io credo che questo Palazzo dello Sport abbia una potenzialità incredibile ci abbiamo lavorato sopra per averlo per farlo diventare Almarena e quindi questo vuol dire poterlo riempire sempre di più perché riempire un oggetto del genere non è facilissimo e quindi speriamo però di riuscirci anche a questo come abbiamo fatto oggi Mario c'è la comunicazione, c'è la diretta alle 20 e 25 su Tele4 poi però c'è la partita sono di quelle partite in cui il cuore conta forse più della testa sicuramente sì ma anche la testa conta molto dobbiamo essere consci, dobbiamo essere seri dobbiamo essere... ma non ho dubbi i ragazzi sono preparati hanno fatto un grande lavoro tutta la settimana veniamo da un buon periodo quindi è l'occasione giusta poi la palla partiamo 0-0 siamo 5 contro 5 e vinca il migliore sperando che il migliore siamo noi non c'è dubbio e allora appuntamento qui all'Almarena per i fortunati possessori del biglietto oppure su Tele4 20 e 25 in diretta per un derby che comunque vada sarà un momento da ricordare per il basket del Friuli Venezia Giulia